Un giorno ci guiderai, come tuo padre ha guidato la famiglia e suo padre prima di lui. Ma la vita di un uomo non finisce con la propria. Non si ha un figlio. Fidatevi di me, perché vostro nipote ha aggredito mio fratello in strada, oggi. Fidatevi di me, perché io lo perdono. Un grande uomo fa del bene, Lorenzo, e tu devi farlo ed essere buono. Non ci sarà pietà per coloro che non la dimostrano. Per fare del bene, deve esserci il bene in noi. Ho ucciso un uomo oggi. Ho visto la vita spegnersi nei suoi occhi. Tutto ciò che quell'uomo poteva diventare scomparso, per sempre. Mio fratello e molte cose. Oh no, mia. Ma non è senza cuore. Volevo vederti. Sì, perché? Non possiamo essere ancora amici. Sono ancora convinto che bisogna cercare una soluzione pacifica. Andiamo. Lunga vita a Lorenzo de' Medici. Lunga vita a Lorenzo de' Medici. Lunga vita a Lorenzo de' Medici, che ci ha dato lavoro. E l'ha dato anche a noi. E l'arte. E la filosofia. Lunga vita a Lorenzo de' Medici, che ci ha dato la poesia. Ci ho provato. Ho provato a fare pace con te. Lorenzo, non metterai fine a questa guerra. Dobbiamo lasciare le rivalità alle nostre spalle, signori miei. Ho sempre voluto che fossimo amici, Francesco. Lo saremo ancora. E' l'unico modo per sopravvivere. Essere un peccatore più spietato del tuo nemico. Voglio che il nome dei pazzi sia cancellato per sempre dalla storia. Presta. Hai visto? Non è mai troppo tardi. Per una riconciliazione. Finisce qui.